bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video sono maullo 9 4 1 e siamo tornati su un nuovo episodio di minecraft signori episodio numero 58 se non sbaglio sia 58 59 non lo so per gli storie di distanza in sequenza quindi anche se mi avete dato dei consigli negli scorsi video non sono riuscito a leggerli signori allora detto questo io prima di partire col video mentre raccolgo un po di materiali che poi si tirano per gli scambi con il villager io vi ringrazio per il supporto che date al canale e ai video vi ringrazio per i commenti e i suggerimenti signori vi ricordo di iscrivervi al canale perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno ci riusciremo non lo so tutto dipende da voi io ci sto provando sto mettendo impegno e vediamo se cosa riusciamo a fare da qui alla fine dell'anno signori detto questo cosa facciamo oggi come vi ho accennato nel video di ieri signori miei oggi andremo a costruire l'acquario ebbene sì ebbene un progetto bello ciccioso non cosa ci prenderà due o anche tre episodi perché poi comunque dovremmo andare a trovare anche i pesci da metterci dentro e non sarà per niente una passeggiata perché non mi ricordo l'oceano qui vicino onde sta sinceramente però 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 aspettate è caduto l'orberello sì perfetto prendilo metterò qua questo lo metti qua e questo lo piazzi qua perfetto allora noi abbiamo nuovamente la nuova sistemazione del legname che fa carina e le cannele a zucchero le rimettiamo qui così prossimamente potremmo fare altri scambi con il villager e ottenere altro materiale allora dove lo facciamo l'acquario signore l'acquario lo facciamo qui in questa zona di qua bello ciccioso ciccioso lo voglio vista lo voglio vista quanto sarà grosso questa è una bella domanda questa è una bella domanda perché di sicuro allora lo potremmo far partire da qua facciamo un attimo un calcolo con la terra vediamo un attimino se lo facciamo partire da qua sarebbe sarà tutto circondato di vetro ovviamente è giusto quindi messo che questo sia il primo il blocco di vetro esterno sarebbero 1 2 3 4 5 6 7 potremmo arrivare fino a lì potremmo arrivare tanto di qua eventualmente ci passiamo quindi effettivamente il nostro acquario sarebbe 1 2 3 4 5 6 dai ci sta così qui comunque lasciamo il passaggio libero della rotaia per non farlo proprio attaccato e largo quanto allora largo fondamentalmente non lo so però così già secondo me è bello è bello imponente è bello imponente magari alto anche 4 e alto 4 si dai secondo me può venire bello 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 grosso bello grosso cosa dobbiamo fare per ottenere questo bel acquario ciccioso signori per ottenere questo bello acquario ciccioso dobbiamo intanto prima di tutto a recuperare la sabbia dove recuperiamo la sabbia non ero più palle di idea la già vedo dei blocchetti interessanti intanto lanciamoci in maniera molto rapida e decisa signori dovremmo recuperare tanta sabbia anche perché nel magazzino non ne abbiamo nemmeno un poco quindi ci serve tanta sabbia quindi iniziamo a raccogliere la sabbia dopodiché perché dite la sabbia la sabbia ci serve sia per un discorso di vetro fondamentalmente io però ho dimenticato una cosa fondamentale doveva portabello che le ho create nel magazzino e me sono completamente dimenticate perché ci servono no quanto so scemo ci servono un po di queste se no che ci mettiamo noi sotto nel magazzino nulla sotto si nel nel nostro bellissimo acquario assolutamente nulla ci servono anche un altro po di queste che le metteremo sto un attimino affondando su me stesso abbiamo preso sì di nymphè che signori ci servono così le metteremo sulla parte alta del nostro acquario e l'os l'unico ossolotto che abbiamo axolotto come cazzarola si chiama potrà notare ne abbiamo sette mi serve un altro dammi qualche altro di queste poi metteremo anche del del degli altri blocchi quelli che non mi ricordo come si cazzarola si chiamano però va bene recuperiamo tutta quest'altra sabbia che non è niente rispetto a quella che realmente ci serve però recuperiamo recuperiamo signori recuperiamo siamo del recuperatore si dice recuperatori non lo so però siamo del recuperatore di sabbia perché stavo spiegando prima che mi perdessi in altre chiacchiere perché ci serve la sabbia sia per fare un discorso di vetro perché giustamente l'acquario sarà tutto di vetro sia per un discorso di sotto alla base noi metteremo la sabbia in modo tale da poter attaccare tutti i vari elementi che vogliamo attaccare nel fondo del nostro acquario potremmo mettere anche la terra? sì ma mi fa cacare la terra dentro un acquario è più bella sinceramente la sabbia ora dove la troviamo la sabbia? bella domanda dobbiamo andare un attimino alla ricerca della sabbia perduta signori la cosa più complicata non sarà tanto trovare la sabbia perduta la cosa più complicata sarà trovare i pesciolini tropicali da buttarci dentro quello secondo me sarà una grandissima rottura di scatole anche perché ricordo che siamo stati in zone tropicali ma non ricordo minimamente dove fossero di qua ci scegliamo male? sì e anche di qua penso riusciamo a fare un giro un po' coticoti senza farci male? sì siamo riusciti a fare un giro coticoti senza farci grossolanamente male dai così sono andato in quella direzione perché spero di trovare il mare spero di trovare mare e oceano anche perché diciamo la zona di spiaggia vicino casa nostra già l'ho deturpata in maniera abbastanza abbondante della sabbia che c'era quindi diciamo che da quel lato di là non riusciamo a trovare niente di interessante quindi direi direi signori per non annoiarvi in questa ricerca io quando cerco le caverne e le grotte trovo tutt'altro quando cerco tutt'altro trovo le caverne e le grotte da poter esplorare in tutto questo ci stiamo giocando tutta la terra perfetto gli ultimi 8 blocchi alla ricerca della sabbia allora signori altra cosa importante segniamoci che qui ci sono le api perché dobbiamo fare anche una farm di api a casa signora signori non so dove di preciso ma dobbiamo fare anche una farm di api voglio il miele faremo anche lì una vetrata come per i polli come per i polli ooooh era questo che volevamo signori era decisamente questo lo distruggeremo tutto? sì penso di sì penso decisamente di sì ci servirà più di uno stack? penso di sì potevo farmi una pala in diamante? penso di sì avrebbe stata una cosa utile e intelligente da parte nostra ma non l'abbiamo fatto perché noi non siamo sempre intelligenti come sempre va bene signori e niente ritaglio questo pezzo di video perché sinceramente non penso vi interessi io che recupero almeno tre stack di sabbia tanto quella che ci rimane poi ci può sempre tornare utile per qualche altra cosa ce l'ho io il ferro? sì meno male e ci può sempre tornare utile per qualche altra cosa qualche altro progetto quindi non 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 ci preoccupiamo signori recuperiamo come se non ci fossero domani tutta quanta la sabbia le tropperemo tutta la zona? sì sì forse sì forse sì ok signori rapidi aggiornamento abbiamo recuperato tutta la sabbia che ci serviva abbiamo circa tre stack quasi quattro stack di sabbia abbiamo recuperato anche un po' di terra perché come giustamente sapete la sabbia soffre la gravità di conseguenza dobbiamo mettere qualcosa sotto il nostro acquario che ci permetta di far stare sulla sabbia questa è una cosa che dobbiamo fare per forza perché sennò il nostro progetto non può funzionare io perché sto facendo questo giro di qua? vabbè non ha importanza le ginocchia ce le abbiamo già perse da un bel po' di tempo detto questo torniamo velocemente verso casa la direzione dovrebbe essere questa di qua se non sbaglio comunque sappiamo che in quella direzione là abbiamo un bellissimo zona in cui andare a recuperare altro qui c'è un rave di zombie perché noi ignoriamo palesemente che dobbiamo tornarcene a casa come se non ci fosse un domani la direzione è questa? penso di sì perché inizia a vedere la palude quindi dovremmo essere in una zona vicino casa ricordiamoci che anche in questa zona di qua come anche dall'altra parte vicino a casa nostra abbiamo trovato delle api che ci serviranno per... ok ok siamo a casa siamo a casa signori delle api che ci serviranno per fare la farm di api sì allora io non so ripeto quanto ci prenderà questo... questo progetto dell'acquario guardate che grazioso tutto il sottoilluminato così è sicuro che non ci può spawnare niente che cosa carina è diventata una cosa enorme comunque è diventata una cosa decisamente enorme la nostra base volante e la stiamo ingrandendo ancora di più signori dobbiamo fare la farm di pecore, dobbiamo ingrandere la farm di alberi dobbiamo ingrandere la farm di api ora non mi ricordo più che altro dobbiamo fare dobbiamo fare la zona delle mappe perché voglio una mappa che rappresenti tutta la nostra zona dall'alto non so dove la faremo di pece forse di lato al nostro monumento sarà una cosa piccolina però la faremo allora per prima cosa andiamo a dormire pulite rapidi e indolore per seconda cosa mettiamo a cuoce anzi per prima cosa mettiamo a cuoce intanto tutta un bel po' di questa sabbia con il nostro bellissimo meno male che abbiamo la lava così non consumiamo minimamente minimamente allora aspetta un attimo questo ci serve dopo questo ci serve sicuramente dopo questi semini non ci servono a nulla la terra ci serve adesso ok dormiamo signori così evitiamo strani spawn o strani arrivi di mostri come se non ci fossero domani iniziamo a prendere le misure giuste allora abbiamo detto che il nostro acquario deve essere largo tanto non è eccessivo non è eccessivo però neanche è pochissimo signori allora vi direi di mettere il blocco d'acqua lì e con la con il potere della respirazione iniziamo a mettere un blocco di terra lì perfetto ok abbiamo ottenuto il nostro obiettivo recuperiamo l'acqua ok e iniziamo a fare la base del nostro acquario vi ho detto che dovrà essere allora intanto facciamo una cosa molto semplice il nostro acquario parte da qua perfetto e deve arrivare almeno fino a qua dai così dai così quindi il nostro acquario effettivamente sarà 6 per andiamo a fare vicino da questo lato così prendo giuste le misure un 6 per 6 ma penso di sì penso che secondo me possa andare bene quindi 6 all'interno quindi abbiamo 1 2 3 4 5 5 e 6 e invece qua ci sarà tutto il giro del vetro signori penso che secondo me può essere un acquario bello bello ciccioso secondo me signori secondo me sì quindi questo sarebbe 1 2 3 4 5 e 6 questo è 1 quindi 1 2 3 4 5 e 6 ok i conti tornano i conti tornano facciamo questo che è tutto di giro dai così eh sì perfetto giriamo tutto quanto così e andiamo a fare finire tutto diciamo il bordo esterno questa sarà diciamo la dimensione del nostro acquario ripeto non è eccessivo però secondo me già qualche pesciolina e qualche cosa graziosa ce la possiamo infilare ok iniziamo a mettere la sabbia allora devi dire di fare un bloc così iniziamo a mettere un po' la sabbia così a caso il vetro lo vogliamo far arrivare fino a fondo? no diciamo che il bordo lo facciamo pure tutto tutto sabbioso va bene così inutile non è inutile fare cose strane mettiamo tutta la sabbia intanto così e facciamo il bordo ok quindi sì quindi nostro acquario effettivamente sarà questo di qua signori il nostro acquario sarà questo ci piace? è piccolino 1 2 3 4 5 6 ah perché io ho calcolato che il vetro lo mettiamo da qua ok il vetro lo mettiamo da qua e se invece il vetro lo mettiamo da qua il vetro lo mettiamo da qua allora facciamo tutto il giro di legno ecco sì mi piace mi piace allora leviamo questa terra mi piace signori facciamolo ancora più grosso facciamo tutto il giro allora questo sarà il nostro effettivo è che poi qua andiamo troppo vicino per questo mi ero tenuto e chi se ne frega e però no no non mi piace non mi piace signori non mi piace non mi piace non mi piace non mi piace sto prendendo le misure in questo preciso istante e non mi piace dovremmo mettere il vetro lì e il vetro lì dobbiamo traslare tutto di uno signori dobbiamo traslare tutto di uno sì sì rapido taglio rapido taglio tecnico tattico ok signori siamo tornati siamo tornati ho cambiato un attimino le dimensioni lo facciamo un pochino più grande perché tanto non ci cambia assolutamente nulla quindi ho dovuto recuperare un altro po' di terra perché non riuscivamo a coprire tutto il la zona del sotto ok questo mettiamo l'ultimo blocco e qui andiamo a mettere tutta quanta la sabbia signori però mettiamo sabbia vorrei mettere anche dei blocchi quelli di lava allora mi rodo come si chiamano e anche le sabbie delle anime però non vorrei che poi i pesci passandoci di sopra o l'osalot possano essere attratti e morirci male praticamente o poi essere sparati in superficie e morirci anche lì quindi penso che quelli li metteremo quelli non li metteremo oppure li metteremo magari agli angoli in parti un po' meno pericolose ecco mettiamola così mettiamola così mangio una fettina di carne ok dovremmo fare anche nelle nostre vicinanze una sorta di qui cosa sta cuocendo ah il vetro perfetto iniziate a portare un po' di vetro qui dovremmo avere sabbia come se non ci fosse un domani quest'altra la mettiamo a cuocere mi basta se non avete tuttissimi questa sabbia non lo so non lo so vabbè casomai domani andiamo a recuperare l'altra signori ci passiamo il tempo ci passiamo il tempo con le costruzioni allora dicevo dobbiamo fare anche una fonte di acqua infinita perché se no dobbiamo riempire tutto sto coso in maniera giusta allora iniziamo a piazzare il vetro facciamolo così non facciamolo no non ho devo recuperare il piccone così che taccia signori se no siamo fottuti ok ovviamente qualche blocco di sabbia lo sostituiremo anche con l'aluminite perché così così avremo luce anche di notte nel nostro acquario ok perfetta allora direi che possiamo fare anche il secondo stato lasciamo solamente un blocco di qua libero ok così noi per fortuna comunque abbiamo sotto la sabbia quindi abbiamo sotto la terra magari si potesse riempire così l'acquario sarebbe una grandissima figata eh ok questi già questi primi blocchi intanto non mi bastano per nulla però possiamo fare questo primo giro che va bene allora si sarà creato allora dormiamo così dovrebbe sparire la pioggia e questo è già un gran bel passo avanti senza ombre di dubbio senza ombre di dubbio qui dovrebbe essersi creato altro vetro 10 queste sabbia al momento non mi serve più quindi mettila a cuocere signori con un secchieto di lava abbiamo colto più di uno stack di vetro cioè io non ve lo vorrei dire ma la realtà è questa cioè la farm di lava è qualcosa di spettacolare ok qui i lati li abbiamo lasciati liberi sì poi ci metteremo delle lanterne qui ai lati signori così per renderlo più carino ora piazziamo un blocco di terra qui in modo tale che noi possiamo salire piazziamo eh un qualcosa di molto provvisorio qui che dirai a cosa ti serve dobbiamo fare una fonte d'acqua infinita signori perché non ho minimamente voglia di andare a almeno per l'inizio dovremmo fare così all'inizio dovremmo fare mi stavo buttando dal lato sbagliato ok ok facciamo e iniziamo a riempire il nostro acquario signori quanto lo faremo altro ma io spero almeno almeno quattro livelli più altri due magari di chiusura tipo per evitare che i pesciolini e soprattutto gli axolot possono scappare penso di sì magari ok però con un solo secchiello noi non ci concludiamo assolutamente nulla quanti blocchi abbiamo quanti secchielli possiamo fare un altro e un altro lo possiamo recuperare qua dalla lava se non sbaglio non è vero sì un altro lo possiamo fare di qua e un altro lo facciamo con questo ferro che c'è rimasto vi preoccupate perché il ferro ce l'abbiamo signori tranquilli tranquilli non vi preoccupate iniziamo a riempire il nostro acquario signori iniziamo a riempire il nostro acquario mucca tutte devi levare allora quella mucca non ha capito niente se non vuole morire si deve levare assolutamente di qua levati levati ti ho detto levati ma io posso commattere ok ha capito che non è zona sua perfetto iniziamo a riempire tutto di acqua signori allora dammi i secchi però così belli a portata di mano perfetto ora secondo un'antica leggenda se io questo lo metto qua e questo lo metto no questo lo metto qua dovrebbe aver creato già una fonte di acqua infinita anche qua dentro no del tipo se faccio così dovremmo essere a posto e riuscire a riempire tutto abbastanza velocemente dai così prendi la metti di qua prendi di qua ok il primo stato è andato signori riempiamo così e facciamo la stessa cosa per i livelli superiori così e così ora dovremmo avere metti questo qua prendi questo e mettilo qui prendi questo e mettilo qui prendi questo e mettilo qui stiamo iniziando a soffocare questa cosa mi piace vuol dire che il nostro acquario funziona forse già l'abbiamo l'abbiamo portato a pari si l'abbiamo portato a pari allora utilizzando forse l'acqua della palude non viene molto chiaro si viene un'acqua più torbida ma ci piace perché gli acquari sono sempre un po' sporchi un po' un po' fitusi come si dice in siciliano detto questo signori io per questo video mi fermo qui perché continueremo con calma la costruzione del nostro bellissimo acquario noi ci vediamo sempre qui sul canale domani per continuare questo progetto signori ancora dobbiamo fare altri due livelli di vetro poi chiudere tutto con legno metterci tutta l'alluminite e tutta la vegetazione e dovrì andare a cercare i pesci altri due episodi ce li giochiamo sicuri detto questo signori ci vediamo domani bella ciao ciao ciao